L'8 marzo al convento, donna in festa, e non solo donna. Le donne più simpatiche, le più speciali, le più originali. Solo al convento le donne sono protagoniste. Cibo e musica, animazione, ballo e festa. L'8 marzo, l'8 marzo, l'8 marzo, l'8 marzo. Convento di Lonato, dove le donne sono very special guest anche nei nostri venerdì village, sabato dinner and dance e happy hour domenica italiana. Grazie a tutti.